Sì, abbiamo fatto intanto una buonissima partita a Modena e tre punti importanti per la nostra classifica e per la salvezza. Domenica arriva un avversario tosto che però conosciamo, abbiamo già giocato diverse volte in amichevole contro di loro, adesso iniziamo a preparare la sfida tatticamente con il video, poi ci alleniamo oggi e domani e sicuramente arriveremo con umore alto, entusiasta e cercando di fare davanti al nostro pubblico una grande partita di nuovo. Ogni tanto c'è un po' di tensione però penso che a partire dalla partita di Scandicci quando abbiamo preso questo gran punto in casa, con la conferma della partita di mercoledì siamo sull'ottima strada, sono confido che anche domenica faremo molto bene qui in casa nostra.